Ha resistito alla tremenda alluvione del 96 quando la furia dell'acqua spazzò via molte delle case che lo circondavano, ma adesso è stato il vento a far sentire il suo effetto. Parliamo del campanine della chiesa di Santa Maria di Cardoso, risalente al 1600, la cui croce alla sommità rischia di cadere e insieme a lei la palla di cemento che funge da pedistallo. È stato un residente della zona a notare la profonda spaccatura che interessa al basamento della croce e la notevole inclinazione della croce stessa. La croce era già stata piegata dalla forza del vento negli scorsi anni, ma adesso, forse ancora a causa del vento, l'asta di ferro ha fatto leva all'interno della sfera di cemento, causandone la spaccatura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e l'amministrazione comunale, che ha chiuso al transito via del Monte Forato, la strada che passa proprio in mezzo tra la facciata della chiesa e il suo campanile. Da capire adesso quali saranno gli interventi per rimettere in sicurezza il campanile e riaprire la viabilità.